Si chiama Pierluigi Schiattarella del Partito Democratico ed è stato il più votato a Mugnano con ben 557 voti nella competizione elettorale tra i candidati al Consiglio Comunale. Sarà il consigliere anziano alla prima seduta dell'Assise e sarà il presidente del Consiglio nella prima uscita ufficiale dell'amministrazione targata Sarnataro. Ahimè sono il consigliere anziano purtroppo anche se la parola sarò io a presiedere la prima seduta di Consiglio Comunale, il sindaco la convocerà, speriamo di farla nel più breve tempo possibile così per partire subito per i lavori che ci aspettano, ormai si deve iniziare. Il Partito demore per quanto riguarda la questione giunta che idea avrà nei confronti del sindaco? Abbiamo proprio in questi giorni a poche ore qualche incontro con il sindaco proprio per chiarire un po' questa situazione, probabilmente come già annunciato il sindaco avremo l'espressione almeno di un assessore in giunta così come lo avranno anche tutte le altre forze politiche. Quindi una giunta politica? Tecnico politica come ha detto, di alto spessore e di alto profilo perché diciamo c'è da lavorare, c'è da lavorare tanto per il paese.